ciao a tutti i beni di casa ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore oggi sartamo spagna famo una bella paella di casa mia come piace a me quindi non è una paella valenziana non è la tipica paella de marisco tradizional l'ho un po' modificata a modo mio perché secondo me col tocco mio qualcosa diciamo che migliora andiamo a vedere quello che io faccio per rendere migliore già sta ricetta che è famosa in tutto il mondo allora iniziamo subito padella sul fuoco olio della mancia uno degli oli più buoni che esistono al mondo poi ci vado subito a mettere un po' di cioriso tritato questo ho fatto soffriggere piano piano da un sapore a tutto quanto che se lega col pesce che non te dico provate lo cioriso quando inizi a fare le prime bollicine che inizi a soffriggere piano piano ci aggiungevo un po' di peperone rosso a cubetti sapete che la paella originale comprende anche pollo coniglio taccole insomma un sacco di cose io al posto del pollo e del coniglio ci ho messo soltanto un po' di di cioriso tritato quindi se potete che è una paella di marisco con cioriso aggiunta di cioriso ma avete visto la quantità minima davvero poi andiamo a mettere due bei spicchi d'aglio tagliati a fettine perché ci piacciono insieme al posto delle taccole ci metto il porro c'ha un sapore il porro insieme a tutti questi ingredienti qua che non vediamo questa è un'esplosione del gusto ragazzi questa cosa poi primo passaggio di timo tanti confondono la paella di marisco con il risotto alla pescatora ma non c'entra assolutamente in niente tutto un altro mondo tutti altri ingredienti tutto altro modo di cucinarlo perché la paella adesso vedrete il riso va messo dentro ricoperto dal brodo e lasciato cucinare così fermo senza toccarlo senza girarlo bel contrasto con il risotto alla pescatora passati un paio di minuti andiamo a mette due cucchiai di concentrato di pomodoro e lo fanno soffriggere insieme passati altri due minuti iniziamo a metter riso quindi riso bomba per chi vuole fa proprio il tradizionalista o l'arborio andrà bene ugualmente l'importante è che non mettete il preboil perché proprio non si può sentire fate soffriggere tutto insieme così se volete ci potete mettere un goccio di vino a fa soffriggere a me sinceramente la paella non me ci piace quindi faccio soffriggere così faccio il sapore bene ogni singolo chicco passato un altro minuto vado a mettere seppie e calamari tagliate a cubetti così questo li lascio un po' dentro a fa sapori un po' tutto e inizio a mettere la prima parte del brodo ok brodo ovviamente di pesce così allora mo che fanno ci mettiamo le teste solo le teste dei gamberi e dei scampi così mi sembra un sapore di bene tutto quanto quindi testate qua testate là senza aggiunge sale e niente andiamo a mettere il brodo così a coprirlo tutto quanto bello eh guarda qua che spettacolo e che odore che sta bene su l'ho leggermente modificata ma il resto del processo è tutto uguale ci ho messo il chorizo il porro ma il resto del processo è tutto quanto uguale come per esempio questo qua è diverso cioè ci metto qualche foglia di origano fresco perché ti colpesce mi piace da morire ecco qua sparso così subito dopo andiamo a mettere una bustina di zafferano occhia bene lo zafferano chi vuole ovviamente cosa quello fresco che costa 14 mila lire ogni mezzo grammo così e famo prendere un bel colore insieme al zafferano mettiamo un cucchiaino di paprika dolce la paprika dolce ci va da tradizione zafferano e paprika dolce ci vanno da tradizione quindi fuoco medio non deve essere altissimo se mette il coperchio e si lascia cucinare così senza toccare niente adesso dopo cinque minuti che sta coperto una bella passata di prezzemolo io ho il mio congelato fresco che da paura quando ci avete eccesso di prezzemolo basilico timo salvia congelatela chiusa in un contenitore ermetico ci avrà lo stesso identico sapore una volta messo in padella guardate che bel colore mamma mia che spettacolo continuiamo e ricopriamo se ci avete dei dubbi sulla carta stagnola sopra gli alimenti che mo giro la voce che se coprica la carta stagnola morite tutti quanti se non sta a stretto contatto con cibi e ingredienti acidi non succede assolutamente niente non dovete avvolgere zucchine peperoni direttamente con la carta stagnola quando andate a congelare questo si mettete prima un foglio di carta da forno e poi la carta stagnola e la carta sono cinque minuti a fine cottura vado a mettere una bella sparpagliata dei piselli così ovviamente sott'acqua se li avete congelati decongelateli e poi li mettete dentro senza nessun problema e poi andiamo iniziamo a mettere le cozze le vongole i gamberoni e le quote dei scampi allora c'è l'odore sta brutale mamma mia la testura è fenomenale togliamo coperchio alziamo la fiamma e famo assorbire tutto il liquido perché la paella sotto in tradizione deve essere croccantina quindi quando ve la danno croccantina non ve incazzate che è bruciata perché ve l'hanno data da tradizione deve essere asciutta buona saporita e croccantina non è un risotto è una paella e belli di casa tutti impadellati ma come state ma guardate qua che robetta gamberoni scampi cosi vongole piselli peperoni manco mi ricordo quello che ci ho messo tanta rara roba il cioriso il cioriso gli da quella affumicatura che dà paura io vi dico solo rifatela così come l'ho fatta io e poi mi direte mamma mia quanta allora si chiama paella e io dava paella ma la bagno guardate qua che bello mamma mia sembra un eccesso di frutta un po' di risottino una cosa anche al amaro ma c'è andato a finire pure un pezzetto di cioriso con i peperoni o zafferano la paprika mamma mia che piatto ragazzi mamma mia che piatto e rifatelo rifatelo perché dà paura magari questa fatela per ogni persona perché per quattro basta ciao belli